Bentornati su MrGadget.tech, oggi per conoscere da vicino la divertentissima Polaroid Now Plus Generation 2. Benvenuto dunque su MrGadget.tech, prima di cominciare però ricordiamo un po' le buone abitudini. Intanto, se puoi, iscriviti al canale, se lo fai attiva la campanella e mi raccomando lascia un mi piace. Allora, dicevamo Polaroid Now Plus Generation 2. Questo è il follow-up... Quanto mi piace quando parli lo svedese. Il follow-up al modello Now del 2020. Introduce il Bluetooth, un attacco per il treppiede e una serie di filtri che sono inclusi nella confezione. Si acquista in tre colori, bianco, nero o verde foresta e viene realizzato con il 40% di materiali riciclati. Se si prende la semplice fotocamera non cambia niente rispetto alle abitudini degli ultimi 1255 anni. Questa è semplicemente la regina del punta e scatta. Veramente di una semplicità incredibile. Se però si va un po' più in profondità, si scoprono dei superpoteri che sono legati all'applicazione che consente di sfruttare molteplici opzioni creative a cui si aggiunge anche il controllo dell'apertura, della velocità di scatto, dell'intensità del flash, il fuoco... Insomma, dentro Polaroid Now Plus, in questa seconda generazione, si fondono il classico e il moderno. Allora, l'intero kit prevede la fotocamera, prevede i molteplici filtri e anche un cavo di ricarica. Viene venduto intorno ai 140 euro. Dico intorno perché è impossibile essere precisi, sapete qual è l'oscillazione dei prezzi online. Però, insomma, la cifra più o meno è quella. Non bisogna dimenticare anche un ultimo dettaglio, cioè quello che Polaroid usa le pellicole con una tecnologia proprietaria che si chiamano iType. Possono essere colori in bianco e nero, in questo caso con gli scatti che sono con la forma circolare. Ecco, per capire Polaroid Now Plus dobbiamo concentrarci su due dettagli. Da un lato i filtri e dall'altro invece l'applicazione. Partiamo proprio dai filtri che si applicano e tolgono con una semplicità davvero incredibile. Possono aiutare ad alterare, a modificare i propri scatti in modo davvero divertente. Qui bisogna proprio sperimentare per capire quali effetti si possano ottenere. Difficile, insomma, a spiegarvi come fare se non con una prova sul campo. Quando si parla invece di applicazione, beh, bisogna dire che questa fa davvero la differenza nell'esperienza d'uso di Polaroid Now Plus Generation 2. Intanto è possibile regolare l'apertura, è possibile avere il pieno controllo sul timer per gli autoscatti, è possibile gestire la doppia esposizione, oppure prendere proprio il controllo totale dei parametri attraverso l'uso manuale. E non solo, perché sempre attraverso l'applicazione si può gestire anche lo scatto in remoto, quindi vi allontanate dalla fotocamera ma potete scattare direttamente dall'app. E sempre dall'applicazione si controlla poi l'esposizione e l'uso del flash. Per il resto poi è tutto nelle mani di chi usa Polaroid Now Plus Generation 2. Si possono sfruttare molti effetti creativi, ad esempio le scie che sono disegnate dalla luce, che sono molto carine. Beh, ci sono tantissime soluzioni sul mercato di fotocamere istantanee, però nessuna è riuscita mai a raggiungere il fascino di Polaroid, che da decenni è un'icona e che è stata accolta tra l'altro al suo ritorno con uno grandissimo entusiasmo. C'è il tema della qualità delle pellicole che traccia un solco netto rispetto alle altre soluzioni che oggi sono presenti sul mercato. Insomma, se ti piace l'idea degli scatti istantanei, vuoi aggiungere un tocco di contemporaneità, di modernità, dato dall'uso dell'applicazione, allora Polaroid Now Plus Generation 2 è una scelta davvero perfetta. Altre informazioni su mrgadget.tech e ci troviamo prestissimo proprio su mrgadget.tech. A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti!